Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, ancora un arresto per droga in città. A finire in manette una 51enne di origini marocchine. Le indagini, nate da un esposto arrivato in questura, dove si segnalava un sospetto via vai da un'abitazione. Gli agenti della squadra mobile, dopo un'attività di appostamento, hanno appurato l'attività di spaccio, fermando anche alcuni acquirenti appena usciti dallo stabile. Lo scorso martedì poi il blitz, durante il quale poliziotti hanno trovato un vero e proprio laboratorio domestico, finalizzato all'accessione e al consumo di droga. Trovate cocaina, eroina, 750 euro in accontanti, due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza. Stupefacente. Questa mattina invece un incidente, uno scontro all'alba tra due auto lungo la E45 all'altezza dell'uscita di Sansepolcro. Mancavano pochi minuti alle 7 quando è scattato l'allarme sul posto ai sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Due le persone ferite, due donne, una di 34 anni e una di 59, portate al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro in codice giallo. E adesso la politica è tornata questo pomeriggio a riunirsi. Il Consiglio Comunale è convocato a stretto giro dopo quello terminato con la mancanza del numero legale per le assenze maturate nel corso dell'assise. Questo aveva comportato un brusco stop ad una pratica importante. La variazione di bilancio che contiene nuove risorse per la rotatoria di via Fiorentina, ma anche per le asfaltature e molti altri interventi. Oggi la variazione di bilancio è stata approvata con 20 voti favorevoli. E adesso parliamo di istruzione dalle famiglie Aretina. Il Comune di Arezzo arriva un appello per gli esili nido. La Vice Sindaco ed Assessore Lucia Tanti annuncia adesso l'aumento di posti negli asili nido. Già da quest'anno saranno 24 in più nella fascia 3-12 mesi, ma non solo. Entro il 2027 i posti potrebbero aumentare sino ad 80. E adesso voltiamo pagina dal 1 luglio, la fine del mercato tutelato dell'energia elettrica. Vediamo i consigli della Casa dell'Energia di Arezzo. Mercato energetico è indubbiamente una giungla. Voi avete aperto questo sportello energia per aiutare un po' i cittadini a orientarsi. Esatto. Come hai detto te, la materia è una materia difficile. Dal 1 luglio si aprirà il mercato libero dell'energia, però quello che diciamo è di fare molta attenzione. Ci sono delle piccole compagnie che all'interno delle bollette caricano anche dei costi occulti. Che ovviamente non sono parametrati nei contratti principali. Quello che diciamo è, visto comunque tanti distributori che noi trattiamo, i mandati ovviamente abbiamo una pluralità di compagnie distributrici, ci accorgiamo che in alcune ci sono delle criticità. Quindi state attenti, non vi vincolate con un distributore, ma fate dei contratti aperti. E se notate delle irregolarità all'interno delle bollette, quindi con dei costi previsti che non sono stati parametrati all'inizio o dal consulente o dal soggetto che vi ha appunto fatto firmare il contratto, cambiate immediatamente il fornitore. Ovviamente il servizio a casa dell'energia è sempre aperto. Noi abbiamo uno sportello dedicato, quindi non col center, che ovviamente creano ancora più disagio. Alcune volte per le varie persone sappiamo che i telefoni squillano in continuazione con queste offerte più o meno vere. Voi potete venire in sede da noi e ovviamente il nostro personale vi saprà dare una consulenza abbastanza approfondita perché noi non rappresentiamo nessun distributore in particolare. Ma ovviamente prendiamo e cerchiamo di prendere il meglio per i nostri clienti. Da poco abbiamo anche chiuso un accordo con una società che si chiama Risparmio Energia di Arezzo, che sono anche loro un gruppo di ragazzi che appunto ci aiutano con i distributori e con il back office, che è molto difficile, ovviamente questa attività la fanno da molti più anni di noi. Qual è il consiglio che riuscite a dare e qual è anche poi la strada che riuscite a consigliare? La strada che consigliamo è di leggere bene la bolletta, di capire se ci sono costi di gestione, i cosiddetti CCT occulti, ovviamente costi fissi di gestione dei contatori troppo alti. Sappiamo che una media circa, per esempio, i più grandi distributori, quelli di Enel e ERA, hanno dei costi fissi che in qualche modo all'interno della bolletta montano a circa 12 euro. Se questi costi sono molto maggiorati, ovviamente vuol dire che c'è un problema, quindi c'è una criticità, bisogna farlo vedere appunto a un esperto per capire se in quel momento siamo frodati o se i prezzi sono rimasti bloccati e non aggiornati con il PUN, che ovviamente sappiamo essere sempre più in variazione. E ancora energia, AISA, Impianti e Centria assieme per ridurre l'anidride carbonica nell'atmosfera. AISA produce biometano, Centria lo mette in rete e le famiglie lo usano. È così diventato in realtà il processo di decarbonizzazione del sistema energetico. AISA Impianti ormai da mesi ha inaugurato il biodigestrio anaerobico che tratta la frazione organica e genera biometano. Grazie al nostro supporto tecnologico questo biometano generato a San Zeno viene immesso nelle sottostrutture di Centria e distribuito a famiglie e imprese e anche a impianti di distribuzione di metano per autotrazione. Un grande contributo all'ambiente di questo territorio che ha dimostrato di attuare una vera politica di economia circolare perché il rifiuto si trasforma in biometano che non inquina perché ha emissioni zero avendo un'origine bio. La collaborazione tra le due aziende Aretin era iniziata nel 2021 con la richiesta di AISA Impianti di potersi connettere alla rete di distribuzione del gas naturale di Centria. L'azienda Aretina che gestisce l'impianto di recupero integrale dei rifiuti a San Zeno produce infatti biometano attraverso la digestione della frazione organica del residuo solido urbano. Nel corso del 2022 Centria ha realizzato l'impianto di connessione e a fine 2023 l'impianto AISA è stato collegato alla rete di distribuzione del gas naturale della città di Arezzo. E a valle di una specifica procedura di avviamento e analisi della qualità del biometano prodotto lo scorso 15 dicembre è stata effettuata la prima immissione. È un esempio importantissimo di economia circolare che oltre a salvaguardare gli aspetti ambientali dà anche un ritorno importante ai cittadini stessi e con il loro lavoro e il loro impegno si rivedono tornare indietro del metano nelle loro abitazioni. Credo che sia uno dei primi tentativi di questo tipo di collaborazione che spero possa essere replicata anche in altre realtà. La stima è che con le quantità attuali possano essere soddisfatti i bisogni annui di almeno 2000 famiglie. Siamo in una fase di messa a punto perché quando sarà a regime questa produzione consentirà di immettere in rete fino a un quantitativo utile e sufficiente a riscaldare molte abitazioni. Considerate che ogni 8 ore diamo la cosiddetta pompata di gas nell'ordine degli 8000 metri cubi. Quindi è un quantitativo molto importante che ci deve far riflettere sull'opportunità di avere questi impianti a servizio delle nostre comunità. Torniamo a parlare invece adesso di giovani riconnessi riconnessi il progetto dell'Asra Toscana Sud-Est per aiutare i più giovani appunto che non studiano e non lavorano. Noi abbiamo visto veramente un'esplosione di disagio dopo la pandemia ed i ragazzi sono quelli che hanno risentito di più. Formazione, inserimento lavorativo, servizio civile, gruppi di autoaiuto per sostenere i giovani che vivono in una condizione di isolamento sociale e le loro famiglie. È così nato il progetto dell'Asra Toscana Sud-Est Riconnessi finanziato dalla regione toscana e dai comuni della conferenza dei sindaci del Valdarno. Il progetto Riconnessi punta alla riconnessione appunto ma non virtuale, quella è anche troppo per i nostri giovani ma alla riconnessione con il mondo reale, le persone, la scuola, il lavoro. Il progetto della durata di 12 mesi è rivolto alla fascia dei giovani definiti in IT, ossia non impegnati in attività di studio o lavoro. È stato proposto un momento di ascolto e di accoglienza a domicilio. Quindi uno psicologo e una educatrice sono andati a domicilio di questi ragazzi e hanno intanto cercato di capire la loro situazione, la sofferenza della famiglia, hanno supportato la famiglia e poi hanno cominciato ad esplorare possibilità di uscita da questa situazione. È stata fatta anche una ricognizione, una mappatura di tutte le realtà che sul territorio possono essere di interesse per i ragazzi di questa fascia d'età e pian piano sono stati convinti a provare delle attività extra domestiche. Il progetto si è concluso con l'85% dei reinserimenti in percorsi scolastici per minori, per i maggiorenni invece il 34% dei partecipanti è stato avvicinato a servizi dedicati a formazione e lavoro e il 39% è stato inserito in attività socio-riabilitative. I numeri che emergono fuori danno sicuramente la certezza della qualità dell'intervento. La provincia di Arezzo registra un vero e proprio boom di giovani donatori di sangue. Tre nuovi iscritti, 3 su 10, sono infatti under 25. Boom di giovani donatori Avis in provincia di Arezzo. Tre nuovi iscritti nel corso del 2023, 3 su 10, sono infatti under 25. Crescono anche le donazioni rispetto al 2022, più 3%, e il territorio risulta essere il secondo a livello regionale per aumento dei conferimenti di plasma, più 15%. A stabilirlo l'ultimo report stilato da Avis regionale Toscana in relazione all'anno 2023. Le donazioni totali nella provincia retina sono state 16.450 dei 10.605 soci donatori totali. La fascia d'età che ha portato proporzionalmente il maggior contributo è stata quella compresa tra i 46 e i 55 anni, seguita dal segmento 56-65. Ottimo come evidenziato il riscontro in termini di ricambio generazionale. Tra i nuovi iscritti, 3 under 25 su 10 hanno scelto di diventare donatori nel corso del 2023. Le buone notizie non terminano qui, perché nel frattempo la provincia retina risulta la seconda in Toscana per aumento di donazioni di plasma, più 15%, mentre risultano sostanzialmente stabili quelle di sangue intero. Si tratta di numeri incoraggianti sotto molteplici punti di vista, commenta la presidente di Avis regionale, e Claudia Firenze, perché testimoniano la dinamica di un fondamentale cambio generazionale in corso e perché ci confermano che la strada della sensibilizzazione alla cultura del dono è quella giusta. Andiamo a conoscere adesso un nuovo servizio dedicato a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Salute e solidarietà over 65, servizi alla cittadinanza e protezione civile sono le cinque aree in cui è organizzato il nuovo sito della Fondazione Arezzo Comunità che si chiama Punti Solidali, uno spazio web che offre informazioni sui luoghi dove le persone in difficoltà possono trovare aiuto. È una mappatura di tutte le esperienze di generosità e di solidarietà che vengono registrate nella città di Arezzo e che sono erogate dagli ormai 64 soci della Fondazione Arezzo Comunità, ovviamente non tutti quelli che questi servizi li danno quindi dal sociale al sanitario, dalle povertà alla disponibilità a dare dei servizi aggiuntivi tutti coloro i quali queste cose le offrono vengono censiti e mappati. Non ha solo il significato di dare risposta a chi ha bisogno di qualche cosa ma ha anche la possibilità di offrire a chi vuole dare una mano una sorta di censimento di che cosa può fare per entrare dentro un sistema che già aiuta. Quindi ha due direi finalità. Una è quella di mettere il cittadino nelle condizioni di sapere tutto quello che accade e che ha a che fare con la donazione, con il volontariato ma dall'altra anche quello di dare al cittadino che ha un afflato di generosità ma non sa come fare la possibilità di sapere e di capire dove andare per dare una mano. Come sta la nostra città da questo punto di vista? Ce lo siamo detti tante volte in occasione dei rapporti sulla povertà piuttosto che altri dati che magari arrivano dall'Istat. La nostra è una città che nel 2023 ha visto 9.576 aretini seguiti dai servizi sociali del Comune di Arezzo quindi praticamente il 10%. È una città come tutte le città medie che cominciano a diventare grandi che ha delle sacche di povertà anche ignote, anche nascoste e che sono più note a chi in qualche modo è deputato a dare delle risposte. Al fronte di questo, che la rende una città come molte altre, ha però una rete di solidarietà, di attenzione, di presenza, di prossimità che forse è abbastanza unica, abbastanza straordinaria. Quindi siamo nella media rispetto al disagio, siamo a questo merito del terzo settore, non di chi governa la città, nella straordinarietà della risposta. Questo permette ad una città che è il 10% degli aretini che stanno dentro i servizi, tutto sommato, di non rompersi come sistema. A Castiglio Fiorentino è partita la raccolta fondi per partecipare al progetto di restauro per il rifacimento della copertura del portico e il restauro degli elementi lapidei della Chiesa del Gesù. Dopo quella di Sant'Agostino, un altro gioiello castiglionese tornerà al suo antico splendore grazie ad un progetto di ristauro e risanamento in parte finanziato dalla CEI che ammonta complessivamente a 270.000 euro. Entro il 15 giugno partirà il primo stralcio da 135 di cui 95 finanziati dalla CEI che prevede il rifascimento della copertura del portico e il restauro degli elementi lapidei. All'appello però mancano 40.000 euro che dovrebbero essere recuperati grazie alla raccolta fondi a favore della Chiesa. Torniamo adesso in città dove è tutto pronto per la grande festa al Parco del Pionta in programma sabato 29 giugno. L'evento si inserisce all'interno del progetto Pionta Park. In programma iniziative artistiche, musicali, attività sportive, giochi per i più piccoli, laboratori culturali e passeggiate storiche. Insomma un'occasione per esplorare ed apprezzare il parco nella sua dimensione di socialità e divertimento ma anche imparare in più sulla sua storia e sulla memoria che il parco custodisce. E sempre ad Arezzo, in questo caso sabato 6 luglio, in occasione del primo giorno dei saldi, torna la magia di Shopping sotto le stelle. L'evento è targato da ConfCommercio giunto alla sua quindicesima edizione. Una serata di acquisti, musica e divertimento e cena a cielo aperto sotto un cielo estivo. Sono oltre 300 le attività coinvolte. Il centro storico si trasformerà in un grande festival all'aperto con negozi aperti fino a mezzanotte ma anche aperitivi di gesetta, musica, bali di gruppo, intrattenimento e le immancabili cene sotto le stelle. Sarà invece l'attore, regista, produttore e conduttore televisivo Luca Barbareschi con il suo spettacolo Barbalaiva ad inaugurare la terza edizione dell'estate in Fortezza che anche quest'estate affollerà la Fortezza Medicea di Arezzo con un programma all'insegna della musica e delle arti performative. L'appuntamento con Barbareschi è per venerdì 28 giugno con uno spettacolo teatrale, ironico controcorrente, pop e libero dopo due fortunate stagioni televisive. La dodicesima edizione del Passioni Festival invece si è aperta con un successo di pubblico per la conferenza di Stefano Pasquini a casa Vasari. Sentiamo le sue parole. Io studio Vasari da tempo e mi interessa ovviamente tutta la storia dell'arte ho anche studiato storia dell'arte all'università ci ho messo 4-5 mesi più o meno. Vasari è sicuramente una figura che va ripescata e rivalutata io non credo che Arezzo ci sia la consapevolezza di aver avuto appunto come concittadino un genio di questa portata che ha rivoluzionato la città di Firenze e ha scritto le vite e appunto ha creato la storia dell'arte quindi è importante fare iniziative sul Vasari certo farle qui è una cosa che non ha pari. Quando si fanno le iniziative nei posti degli artisti o degli intellettuali io per esempio ho presentato il mio libro su Pascoli a casa Pascoli è stata un'emozione incredibile ma così anche stasera perché eravamo in una sala di incomparabile bellezza poi appunto io mi sono basato sull'affresco del tetto il trionfo della virtù in tutta la conferenza. Sarà Giovanni Baglioni invece ad aprire la ventunesima edizione del Festival di Musica Sacra Cortona sabato 29 giugno il chiterrista si esibirà alle 21 alla chiesa di San Domenico con il suo concerto Rutz. Il Festival è organizzato dall'Associazione Cortona Cristiana e si concluderà il 7 luglio con le laudi all'alba all'eremo delle Celle. Giorni intensi, circa una decina di appuntamenti tutti ad ingresso libero in alcune chiese e luoghi suggestivi della città etrusca. E adesso lo sport nella finalissima allo stadio Tubaldi di Recanati gli Amaranto Under 15 hanno perso ai rigori la finalissima Scudetto contro la Pro Sesto. I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1 mentre nei supplementari il punteggio non era cambiato. Tra gli 11 metri decisivo l'errore del capitano Lobasso che ha calciato fuori tutti a segno invece gli altri 9 rigori. La squadra ha comunque disputato una grandissima stagione ed era seguita nelle marche da un folto gruppo di tifosi. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.